Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Lanciere e ritorniamo con un nuovo video dedicato a Calciatori 2021-2022 e non solo. Infatti mi è arrivata una busta dalla Panini che voglio andare ad aprire insieme a voi. Prima di partire con l'unboxing però vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale e schiacciare un bel like al video. Detto questo direi di partire subito con l'apertura del nostro pacchettino. Ragazzi mi è tornata la scatolina questa qui rigida per fortuna, quindi non mi hanno mandato la confezioncina di quest'anno e vediamo subito il contenuto di questa busta. Allora ho ordinato un po' di carte della collezione Adrenaline di quest'anno, sono praticamente quasi tutte card plus che mi mancano per terminare la raccolta. Partiamo con Gian Piero Gasperini, Igor Tudor, l'allenatore del Verona, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Stefano Pioli, Luciano Spalletti, Roberto D'Aversa, Alessio Dionisi, Luca Gotti e Paolo Zanetti per i mister. Passiamo alle carte plus normali. Mi è arrivato Zappacosta, Copmeiners, Gianluca Caprari, Dumfries dell'Inter, Junior Messias, Anghissà del Napoli, Mattias Vigne, Frank Ribéry, Simi, Keita Baldè, Federico Di Francesco, Pinamonti, Nastasic, Giovanni Simeone, la plus supercombo di Basic, la plus supercombo di Caputo, la supercombo di Magnanelli e un top player che va sempre ordinato, Zlatan Ibrahimovic. Mettiamo da parte queste carte perché adesso vi faccio vedere altre figurine che mi sono arrivate raccolte di quest'anno. Se ne possono ordinare ovviamente fino a 70 e ovviamente io le ho ordinate tutte 70. Un po' per me, un po' per un amico che sta fuori dall'Italia e quindi non può ordinare queste figurine. Infatti ho ordinato la figurina team per prima cosa. Poi abbiamo Blaovic, Player of the Month, Koulibaly, ancora un Blaovic, ancora un Blaovic, poi figurina Scudetti, un po' di giocatori della serie B, la squadra femminile della Sampdoria, Maia il Venezia, altri giocatori del Venezia, Scudetti, Maia, vediamo un po' Nuntic, Molina, lo Sema e l'Udinese, vediamo un po' che cosa ci sta di interessante. Abbiamo Brecalo, il Gallo Belotti, Salsedo, Scamacca, l'allenatore del Sassuolo Dionisi, la Maia della Samp, abbiamo De Paoli, la squadra della Sampdoria, perché praticamente ho fatto un casino e ho incollato la squadra femminile della Sampdoria al posto della squadra maschile, quindi ho dovuto riordinare tutte e due perché una la dovrò mettere sopra all'altra e la squadra femminile a questo punto mi mancava completamente. Falcone e Audero, mi mancavano tutte e due i portieri della Sampdoria, El Sharawi, Maia della Roma, Spinazzola, Scudo della Roma, Victor Osiman, Driss Mertens che è diventato papà, auguri a Driss, Ciro Mertens e il nuovo Ciro Mertens, suo figlio, Lorenzo Insigne, la Maia del Napoli, Fabian Ruiz, Mario Rui, Stemma del Napoli, uno Zlatan Ibrahimović che va sempre bene, Simon Chier che mi mancava, Maia e Stemma della Lazio, Paolino Di Bavla, Caio George, Federico Chiesa, Massimo Allegri che anche mi mancava, Stemma della Juve, Lautaro Martinez, la Maia dell'Inter, Samir Andanovic che va nella mia figo carriera, Stemma di Inter e Verona, abbiamo Ghiglione, la Maia del Genoa, Niccolò Rovella, Sabelli, Dujan Vlaovic, anche questa va sempre ordinata, la Maia e lo Stemma della Fiorentina, Bandinelli, Diego Farias, la Maia del Cagliari, De Iola, lo Stemma del Bologna, Musso che mi mancava e il Trofeo Serie A Team. Ragazzi quindi 70 figurine sono il massimo che si possono ordinare alla volta su internet, io le ho ordinate tutte quante e ovviamente ho fatto scorta di figurine interessanti, tra quelle più interessanti ci sono tutte quelle di Dujan Vlaovic, eccole qua, ovviamente sono ancora tutte disponibili quindi bisogna assolutamente acquistarle finché si può, a questi prezzi, costano 30 centesimi l'uno, quindi 4 figurine al momento di Dujan Vlaovic, le abbiamo prese tutte. Termina qui questo video ragazzi, ma prima di salutarvi vi voglio ricordare come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale e schiacciare un bel like al video. Detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!